Picchiato brutalmente e lasciato a terra in fin di vita in una pozza di sangue, un ragazzo poco più che ventenne di origini nordafricane è stato trovato questa mattina da alcuni passanti atturate in via Como poco prima delle 8 su una iuola sparti traffico a poca distanza da una zona boschiva vicino all'ingresso dell'autostrada 9. È ora ricoverato in rianimazione in proniosi riservata all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia. Da quanto emerge non aveva documenti con sé e quindi non è ancora stato identificato, avrebbe entrambi i polsi spezzati e le mani fasciate, condizione che al momento rende difficile rilevare le impronte. A dare l'allarme sono stati degli automobilisti che vedendolo hanno allertato i soccorsi, i quali una volta sul posto hanno riscontrato un quadro clinico critico. Oltre al brutale pestaggio è stato anche accoltellato, è stato portato quindi in codice rosso massima gravità al presidio di Via Ravona. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Turate, del nucleo operativo e radiomobile e del nucleo investigativo di Como, oltre agli squadroni cacciatori. Indagini in corso per ricostruire i fatti. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti vista la vicinanza con un'area boschiva dove si trova un campo di grano turco già nota per episodi di spaccio di droga. Durante le ricerche e i sopralluoghi è stato scoperto un bivacco, trovati resti di cibo, una sedia e una modesta quantità di stupefacente. Trovato anche un vecchio cellulare che è stato sequestrato e che si spera possa risultare utile a definire i contorni della violenta aggressione. Da quanto emerso fino ad ora la zona non sarebbe videosorvegliata e al momento non si hanno notizie di eventuali testimoni.